A questo punto finalmente direi anche a inizio il match Pallone lungo a correre sulla fascia e per Cominetti che ci arriva Cominetti cerca la stezzata, il bel pallone sul fondo Palla che attraversa lì la palo, non va Costa che ha trovato il compagno Quindi con l'esterno bello il pallone si gira Grandissima giocata di pelle sulla pressione senza pallo In mezzo a due pelle, va via al tiro, traversa Azione incredibile del numero 7 del club Milano, pelle Può partire un cross, entra in area natale Il cross c'è, attenzione, l'uscita, la parata, pallone che rimane lì Prova da giusto a essere per una rovesciata che arriva Il pallone, l'imbucate per lui, pelle, pelle, pelle sul fondo Cede la palla, attenzione qui dall'area piccola E arriva l'1-0 Petar, Brankovic Tutto adesso senza i mezzi Libera per il cross, che parte E' gol No, non va Non è gol, non è gol Attenzione, è bello 4 contro 3 Il pallone dentro per pelle Il tiro, la parata, poi palla che rimane lì Attenzione, ancora Arankovic, lo scavino per pelle, pelle, si coordina Non va Benatti Impostazione, è bello il pallone Pelle, ci riprova con un'altra rovesciata 3 contro 2 Arrivano però i rinforzi Attenzione, pallone Tutto dall'altra parte In cespico, un po' pallone buono Il tiro Prova ad andare via il portiere Rimane su La conclusione, è il gol Il gol di Petar Rankovic Che vale la doppietta 2-0 Club Milano Proprio nel momento migliore forse Della Ponte Lambrese Se c'è una trattenuta L'arbitro fa giocare Attenzione al bel pallone Per Natale Il tiro Il pallone in orizzontale Perde un attimo l'attimo pelle Pallone che rimane lì E' ancora buono Attenzione, la conclusione Attenzione qua Lo scambio interessante in area Non c'è niente Dice l'arbitro Sulla destra Arankovic Lo vede Arankovic C'è il cross di prima Bello E non va Questo contrasto Gioca poi bene su Arioli Il tiro Attraversa ancora E finisce qui questo match Club Milano Che meritatamente Vince 2-0 C'è il tiro C'è il tiro